Lautaro Martinez devrai infortunati prima di Inter Lazio, partita fondamentale, nein, 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 ma fanculo, ma sempre sta sfiga di merda, ragazzi ricordatevelo, la lotta a Champions League anche quest'anno sarà una guerra fino all'ultimo, non sottovalutiamo la Lazio, che hanno una partita in meno e con una vittoria, con una possibile vittoria contro di noi potrebbero veramente arrivare molto 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 vicino, mi pare a meno due, perciò veramente una partita fondamentale, partita fondamentale, le prossime settimane ci saranno veramente partite difficili, anche quella contro l'Atalanta Bergamo dove ci vediamo lo stadio ragazzi, spero di vedere tanti tanti di voi, perciò anche quest'anno purtroppo non è cambiato tanto, fino all'ultimo, fino all'ultimo secondo sarà una battaglia per la Champions League, dobbiamo ovviamente assolutamente qualificarci ragazzi, è fondamentale. Notizia positiva, ok, Lautaro Martinez infortunato, però notizia positiva, finisce ufficialmente lo sciopero dopo 45 giorni della famiglia Icardi, grazie, grazie a voi, grazie a voi che lottate per i diritti dei operai, io qui ragazzi in questo momento studio in Francia, al sud della Francia, qui sono i Gelegion che vanno in giro ogni giorno, spaccano, distruggono tutto, fanno lo sciopero, a Milano all'Inter ci pensa Icardi a fare questo, è giusto così, 8 milioni all'anno, poveraccio, sono solo 4, 4 netti, sono solo 4, sono cose che non si possono più accettare, assolutamente no, perciò ha fatto bene di fare un po' di sciopero. Ragazzi, adesso parliamo di un discorso, prima di tutto voglio dire ancora una cosa, sempre quando sono un pochino ironico, vedo che c'è tanta gente che lo apprezza, dice bello, i tuoi video all'inizio hanno sempre una piccola intro, perché devono essere un po' leggeri, non troppo pesanti, la vita è già abbastanza dura, e poi dopo approfondisci sempre e dici le cose che vuoi dire. Però vedo sempre che c'è veramente della gente, non so, forse c'ha l'immunità contro l'ironia, non lo so, l'ultima volta ho fatto un video, dopo 30 secondi ho detto, ah Icardi, è successo un miracolo dopo l'infortunio così grave che io pensavo che dovesse finire la sua carriera, adesso c'è un miracolo, è guarito. C'era tanta tanta gente che mi ha scritto veramente, intervista tedesco, non capisci un cazzo, Icardi non ha avuto nessun infortunio, ho detto mamma mia, mamma mia, con un'ironia più ovvia non puoi iniziare un video, questi qui non capiscono, mamma mia, vabbè, non lo so, perché forse qualche gente proprio vede solo i primi dieci secondi del video, oppure, non lo so, veramente sono sempre stupito quando ricevo questi messaggi qui. Comunque, questo video vi volevo fare una domanda, fischiare Mauro merda Icardi sì o no? Perché ci ha trattato veramente malissimo ragazzi, quello che lui ha fatto, vabbè adesso non voglio ripetere tutte le solite cose, e la mia risposta è no, non fischiarlo perché è una merda. Sì, avete sentito bene, se lui fosse di meno una merda, voi lo dovreste fischiare, però il problema è che lui è troppo merda, perciò non lo potete fischiare, adesso dite, oh, che cazzo dice, adesso sei impazzito? No ragazzi, il problema è proprio questo. Nel passato è già stato così, mi ricordo i problemi, problemi, il suo attacco nel libro, attacco assurdo contro di noi, contro la curva Nord, vi vengo a ammazzare con i miei amici dell'Argentina, non so che cosa, che poi ovviamente c'erano le critiche sensate, le critiche giuste su di lui, anche della tifoseria, mi ricordo in un derby lui ha sbagliato il rigore contro il Milan, e in generale è così ragazzi, Icardi è uno che non risponde alle critiche sul campo. Non è fatto così, non è questo grande personaggio, non è questo grande uomo con le palle, perché ci sono giocatori a cui i fischi fanno bene, per esempio un Cristiano Ronaldo, ve lo dico onestamente, i fischi fanno bene, più fischi riceve, meglio gioca. Un Oliver Kahn ragazzi, l'ha scritto nelle sue biografie, ho letto due libri di lui, l'ha sempre detto, la cosa più bella per lui veniva proprio la pelle d'oca, era entrare in uno stadio che tutti erano contro di lui, lo fischiavano, poi in Germania gli buttavano sempre addosso le banane, dicevano che lui era un gorilla, a lui piaceva questo, io piaceva, proprio era una cosa bella per lui. Perciò ragazzi, ci sono tanti giocatori che sono così, che dicono io, se voi mi criticate, se voi mi fischiate, io gioco ancora meglio, vado in campo e vi dimostro che sono grandi giocatori. Icardi non è così, l'abbiamo visto nelle ultime settimane ragazzi, avete visto quello che è successo, dopo i suoi comportamenti vergognosi, dopo tutte le critiche su di lui, nei momenti veramente importantissimi, dove avevamo in maniera sportiva veramente bisogno di lui, perché non avevamo più giocatori, doveva fare Andrea Ranocchia la punta, oppure nell'Europa League quando sono stato allo stadio contro l'Eintracht Frankfurt, i ragazzi di 16 anni hanno dovuto giocare perché lui si è nascosto, nascosto per settimane a casa, dietro la sua vanda, a dormire sulle sue tette, a fare non so che cosa, veramente Icardi è fatto così ragazzi, Icardi è fatto così. E perciò dico non fischiamolo nella prossima partita, ma non perché mi fa pena, assolutamente no ragazzi, Icardi si merita tutti i fischi del mondo, tutto il mondo in maniera unita lo dovrebbe fischiare per quel comportamento di merda, assolutamente ragazzi. Però, conoscete l'interista tedesco? Prima di Mauro Icardi, prima di me stesso, prima di tutti, viene, ditelo, l'Inter! Come lo dico sempre, è in questo momento Lautaro Martinez infortunato, non voglio vedere Ranocchia fare la punta, altri attaccanti non ci sono, ok, forse un Keita, un Politano, non lo so, però... Penso che abbiamo bisogno in questa partita contro la Lazio che sarà fondamentale di un bomber, perciò io voglio solo il bene dell'Inter, solo il bene dell'Inter. Lo so, quando fischiamo Icardi, lui non c'ha le palle, non c'ha la personalità, lui non è in grado di rispondere, perciò ragazzi, io lo so. Da una parte c'è questo grande dovere, mi premano le mani, ho voglia di fischiarlo, di farlo proprio sentire, di farlo soffrire, che così non si può comportare con noi, con la nostra tifoseria, assolutamente sì, ma dall'altra parte c'è il mio amore, il mio amore per l'Inter, la paura di non andare in Champions League, che è molto più grande, molto più grande del dovere di fischiarlo. Perciò ragazzi, tutti uniti per queste ultime dieci partite, tutti uniti, non facciamo polemiche, non fischiamo nessuno, poi ovviamente se di nuovo fa delle cazzate fuori campo con la banda, dice delle cose, noi dobbiamo anche rispondere. Certo, non significa adesso che c'è l'anarchia, che lui possa fare tutto, però, nella mia opinione, questa è la mia opinione, poi rispetto alle opinioni vostre, in questi 90 minuti dell'Inter, supportiamo l'Inter, in maniera unita, punto e basta, senza fischiare, senza fare niente. Poi, in estate, via, assolutamente via, spero veramente che viene una squadra pazza, che ci paga un bel prezzo, via, perché il danno che lui ha creato alla tifoseria, alla propria squadra stessa e a tutta la società, non è più reparabile, è veramente troppo, troppo grande. Ma però adesso, per le prossime dieci partite, c'è solo l'Inter, ragazzi, solo l'Inter. E tutti quelli che scendono in campo, li dobbiamo supportare. Allora, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi al canale di YouTube, seguitemi su Instagram, mi farebbe tanto tanto piacere, vado sempre tanto in giro, facciamo le storie, così stiamo un po' insieme, passiamo il tempo insieme, possiamo scrivere insieme, comunicare insieme, perciò, ragazzi, sì, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!